La vita è quel viaggio che inizia quel giorno, che trovi il coraggio di andare lontano. Questa cosa c'è scritto qua. Entra e controlla, devi ripetere. Amico mio, sento la voce dietro l'altra stanza. Per chi non lo slà c'è ancora da fare. Scendi in fondo fino all'anima, contenderà. Questa è bella no? Per chi non lo slà c'è ancora da fare. Ecco mio. Per chi non lo slà. Per chi non lo slà. Per chi non lo slà. Prova a mettere il pezzo qua. La minore, mi minore, do, re. Per chi non lo slà. Grida tu il mio nome, Dylan Turache. Per chi non lo slà. Per chi non lo slà. Per chi non lo slà. Lo ricantano in playback adesso. Mi rimandi questo ritornello qua a un'ottava più alta. Sono un ritornello? Si. Ma Massimo Ministro. Arriva. Io direi. No calma, no calma. Una canzone che ti ha risonanza. Una soluzione, cercala con me. altro corso. Gaida tu il mio nome del Occi. ohneramani SMBAD, sul odllo americano, qui c'è... Grazie a tutti.